Se lei dovesse reincarnarsi in uno di questi grandi campioni, chi vorrebbe essere? Vorrebbe essere un atleta, un nuotatore? No, 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 non ci casco. Niente. Sono tutti bravissimi. C'è un altro aspetto da tenere presente, che è tutto questo da essere accompagnato da politiche di contorno, parte delle quali sono state messe in atto in occasione della pandemia. Questo pavone ci accompagna. Allora, sentiamo se il pavone dice qualcosa. È inevitabile riportarla anche in Italia? No, non è inevitabile. È inevitabilissimo. Però diciamo che abbiamo l'occasione, questa è un'occasione per poterle parlare, quindi... Come? È un'occasione per poterle parlare direttamente alla domanda. Ci sono occasioni. Va bene. Quindi diventa inevitabile nei fatti. Dica, dica. E non voglio ripetere quel che ho appena detto. È il momento di stare... Che è? Forse è la Presidente che mi sta togliendo la parola. Ho parlato troppo. Non mi permetterai, Presidente. Sull'altra questione del patto di stabilità, io non sono molto competente, quindi lascio la parola al Cancelliere. Grazie, Presidente. Chiudiamo qui questo scambio con la stampa che ci ha seguito fin qui. Benissimo. Grazie a tutti. Grazie a voi. Buon lavoro. Grazie. Grazie. No, attenzione a non applaudire. No, ma lui non è un giornalista. No, lui non è un giornalista. Attenzione. No. Sono un giornalista. Io, anche per il calcio c'è una comunanza. Noi abbiamo pensato che Gozen sia veramente un ottimo giocatore nel Bergamo. Anche qui quindi c'era un'accumulanza di vedute. Ce l'ho fatta. Va bene.